Siamo con Giovanni Fava, allenatore del Celtic Glasgow Borghava-Demmins, una partita che vi ha visti in dominio dal primo minuto. La squadra è scesa in campo con grande sicurezza nel possesso palla, ma ciò che ha impressionato è stata la coesione del gruppo. È uscito Florian, è entrato Cecconi e subito tripletta di Florian, appena uscito doppietta di Cecconi. Quindi questo credo sia un segnale significativo. Sì, ha funzionato, stasera ha funzionato tutto quanto bene, sul pareggio ci siamo un po' complicati la vita noi, però poi giocando palla a terra è uscito fuori tutte le qualità della squadra e poi andando in vantaggio diventa tutto più facile. Partita maschia sul pareggio, ma è giusto che sia così, siamo calciatori, non siamo ballerine e quindi la partita mi è piaciuta molto. A questo punto non potete nascondervi e le chiedo l'obiettivo del Celtic Glescope in questo torneo, anche se è una domanda un po' scomoda, però è giusto pure. È giusto farla. Partita per partita, puntiamo a vincere ogni partita che ci si presenta davanti, quindi pensiamo già alla prossima e a vincerla. Grazie mille, buona serata. Buona serata.